Ciao a tutti da Poderac, bentornati qui nella serie di Farming Simulator 22 Siamo nella mappa europea e oggi sono anche in compagnia di Luigi Praticamente abbiamo deciso di utilizzare i server Nitrado Praticamente ci sarà sempre il mio server attivo E Luigi potrà ogni volta entrare e fare le sue missioni Insomma, è una bella cosa per non tenere sempre il PC acceso Quindi se siete anche voi interessati a dei server Nitrado Vi lascio qui sotto il link in descrizione Luigi sta facendo attualmente delle missioni per iniziare a ingranare un po' i nostri guadagni Mentre per quanto riguarda la partita di oggi volevo un po' parlarvi di diverse cose Innanzitutto ho scoperto che per quanto riguarda i campi Ok, la raccolta dei sassi non è fruttevole Ma sicuramente se non lo vai a fare vai a usurare maggiormente le attrezzature Come il coltivatore, insomma il sarchiatore nel caso dovessi utilizzarlo E ci sono per caso le pietre Anche i mezzi potrebbero usurarsi Quindi la raccolta delle pietre Anche se economicamente non vi porta nulla conviene assolutamente farlo Quindi ci penserò su Però per quanto riguarda i raccolti ancora al momento sono work in progress È novembre quindi tendiamo sempre di più a praticamente essere in fase invernale Quindi non possiamo fare niente se non appunto magari l'erba o qualcosa del genere Quindi dobbiamo puntare soprattutto sulle produzioni Attualmente facendo un breve recap Come unica produzione disponibile che ho è questa qui delle serre Ho voluto prendere una serra gigantesca Perché le serre gigantesche ci permettono di avere sicuramente un guadagno molto molto alto a lungo andare Quindi sicuramente le serre sono da acquistare Ma una cosa che ho scoperto vedendo le impostazioni Sono le api Le api ok Magari non so se possiamo utilizzare Cioè usufruire delle api H24 tutti i giorni dell'anno Non so se c'è qualche informazione Vediamo miele Lo vende Ah beh 2800 Quindi comunque Ottimo Però per il miele comunque non penso ci sia un periodo in cui Certo teoricamente nel periodo invernale Non un po' tutto secco Non dovrebbero produrre granché Però Noi Li andiamo comunque a produrre Perché se leggete bene nelle impostazioni Cosa c'è scritto Succede che Se andate a posizionare gli alveari Avete la possibilità Di incrementare il vostro raccolto Perché giustamente Inserendo le api Le api teoricamente vanno A spulciare di qua e là Tutti i vari semini Insomma sapete Le api per l'ecosistema sono molto importanti Farmi Simulator Vuole rispettare un po' questo realismo Insomma ci sono diverse Categorie di api Questo è Luogo in cui viene posizionato sotto forma di pallet Dagli alveari Allora questo ci serve sicuramente Ma per quanto riguarda Il posizionamento Io a questo punto direi di posizionarlo Sui campi che possiedo Di solito Gli operai Lavorano in questa maniera Da qua a qua Non fanno questa manovra Dunque Io le posiziono Lungo il lato Da questa parte Volevo Provare A inserire Qualche alveare Piccolo Giusto per Provare Insomma E poi magari Capire che tipo di Business Ci riesce a dare Io insomma posso inserire Ad esempio qua Quattro Alveari Non so se conviene Posizionarli tutti distanti Tra di loro O Perché probabilmente Non è che avrà una copertura globale Per tutta la mia La mia terra Insomma Ok abbiamo posizionato I nostri quattro alveari Credo che debba Posizionare anche questi Perché ci servono Per Appunto Prendere poi Pallet Credo Luogo in cui viene posizionato Sotto forma di pallet Il miele generato Dagli alveari Quindi Penso Vada per forza Inserito Vediamo un po' Esteticamente Com'è questa cosa qui Gli alveari Ottieni il miele Posizionato Ottieni il miele Dalla postazione Ok A posto Penso Vada così Nel senso Spero Funzioni Nel senso Non so quanto distante Doveva essere Questa portata 25 metri Quindi insomma 25 metri Non mi sembrano 25 metri questi Dovrebbe generare Credo 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 Mi direte anche voi Mi direte Guarda Poderak Quello lì non basta Devi posizionarli Ne altri Penso Vada bene così Comunque le api Lavoreranno Poi un giorno Mi ricorderò Di dover Prendere Il miele Ma non penso In questo periodo Ne produrranno molto Comunque avete visto Non è un investimento Grosso È un investimento Giusto Ma Tra le varie cose Di farming Simulator Volevo tanto provare Una cosa Allora Prima di tutto Vediamo i miei Mezzi agricoli Dove si trovano In questo momento Perché Alcuni di questi Mezzi agricoli Li avevo portati Ad esempio Questo qua Avevo portato Il massi ferguson L'avevo portato Per vendere Vorrei tanto Che tornasse In farm In autonomia Sperando che con L'operaio Ci riusciamo Quindi Lo posizioniamo Almeno in strada Ecco Poderac Se mi arrivi Vai dritto Con la sterzata Non so se modificare La sterzata Su tutti i farming Ogni volta Però dopo Mi sembrava esagerato Comunque Mettiamo L'operaio Crea lavoro Vai In Farm Più o meno Oh Tanto Mi raccomando Operaio Ce lo voglio bene Questo a posto Questo più o meno A posto Insomma Con I mezzi agricoli Siamo a posto Per quanto riguarda Questo Volevo farvi vedere Una roba Volevo provare Il muletto Lo so che il muletto Dici Avodrak Vogliamo fare un po' Di realismo Ma Lo so E' un po' esagerato Quello che sto per fare Ma lo voglio fare Perché Insomma Potrebbe essere Qualcosa che Ancora non avete visto Quindi Voglio farvi vedere Che cosa ho scoperto Allora Praticamente Qui Andando in Varie Guardate cosa c'è C'è questo Rimorchio Della Crone Questo rimorchio Della crone E' qualcosa di incredibile Perché Adesso ve lo farò vedere Qua la targa Va bene Lasciamo questa Mettiamo la P di poderac P O Colore Mi piace così Mi piace così Quindi lo lascerei così Come crone Abbiamo questo Oppure questo Oppure bianco No 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 Lasciamo crone Che è molto bello Vediamo il nolleggio Quanto costa 1400 euro Essendo che non è una cosa Che mi serve Credo Per adesso Vi faccio Lo nolleggiamo Poi mi devo ricordare Di togliere questo nolleggio Altrimenti Altrimenti Finiamo in debito E prendiamo anche Già che ci siamo A nolleggio Anche Un Camion Io prendo Ovviamente Il nostro bellissimo man Ok Lo prendiamo bianco 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 Così si capisce bene Lo nolleggiamo anche questo Questo costa un botto Però E' giusto per farvi vedere Lo so Tanto io Prestiti Forse non ne ho Forse Credo Non lo so Devo vedere E vi voglio far vedere Come funziona Dobbiamo prendere anche Un muletto Anche questo lo voglio prendere Forche Prendiamo Prendiamo le forche Manitù 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 Vediamo Se Si può fare Allora Il manitù Lo faccio andare in farm Da solo Allora Vai Poderak Vediamo se Si ricorda Almeno il posto Do che ho messo Speriamo E nel frattempo Mi prendo questo Voi vi dite Ah beh Poderak Un rimorchio Non è un semplice rimorchio Questo E' un rimorchio Molto Molto bello Che secondo me Hanno fatto Proprio un ottimo lavoro Anche questo Tra virgolette Con le mod Lo potevamo avere Ma adesso c'è Di base Anche sulle console Infatti Molti dicono Ah Poderak Ma sto farming simulator E' tutta una cosa di mod Ma mod fatte meglio Rispetto A quelle che c'erano Insomma E' Tutta Una cosa Ottimizzata Soprattutto per chi Appunto Ha Le console Quindi Direi Questo farming Comunque Chi dice che non è innovativo Diciamo Ha i prosciutti negli occhi Nel senso che Ok che sono Ci sono le mod Che potevano farlo Però Le mod Non erano compatibili Su console E adesso invece Ci abbiamo Un gioco Disponibile Anche su playstation 4 Non so se ci rendiamo conto E quello è il problema Poderak Perché a livello grafico E' lo stesso Gioco Più o meno Se non qualche Meglioria Qua e là Ovviamente Essendo che Deve essere compatibile Per playstation 4 Non poteva mai 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 E poi mai Avere il terreno Dinamico Insomma Ci sono troppe funzioni Aspetta Inizio lavoro Ok Troppe funzioni Per console di vecchia generazione Quindi Secondo me Hanno detto Guarda Facciamo qualcosa di Abbastanza leggero Nei limiti Perché comunque Non è leggero Come gioco Infatti Qualcuno Ha qualche lag Mi immagino Invece Se avessero fatto Il terreno Dinamico Tutte quelle cose Che ciao Il gioco sarebbe Dientato super Mega pesante La specialità Comunque Di questo Camion Non tanto il camion Ma il rimorchio E che Guardate Se premete F1 Avete tutte Le varie impostazioni Ma Guardate Cosa potete fare Con U Potete scegliere Se Aprire la tenda Destra O il retro Di destra Ma guardate Se faccio Z Olè Faccio U Vedete Si richiude No no Lasciamo aperto Poi Abbiamo anche La possibilità Guardate Di aprire I portelloni Di dietro C'è Questo raga Tanta Tanta Roba Certo Io ho aperto Il lato Sbagliato Ok Ho aperto L'altro lato Così non devo fare Manovre Dove è andato Manitou Ok Manitou E lì Mi fratello Poverino Sta ancora Lavorando Per noi Io gli tolgo Lui lavora Io gli tolgo I soldi Vediamo se c'è Da facciamo Perché comunque È sempre stato Quello il problema Di farming Non usiamo Tanti muletti Perché c'è Il problema Del fatto che Sono un po' Complicati Da utilizzare Ma Quest'anno Vediamo se Magari un po' Meglio Non credo Però Vedremo Nel frattempo Comunque lì C'è il mio led C'è il mio led Salutiamo gli amici Di Manitou Allora Vai Poderak Facci vedere Se sto con muletto Ne vale la pena O continueremo Con le mani Perché Quello è il problema Cioè Noi possiamo Anche continuare Con le mani Però Se si può Fare un certo Realismo Lo facciamo Ok Nei limiti Del possibile Ok Alziamo Oddio Oddio Più che altro È la sterzata Un casino È dannatamente Un casino La sterzata Perché C'è ancora Rimane memorizzata La sterzata Vediamo Facciamo così Mettiamoci Incliniamo In avanti Più o meno Più o meno Più o meno Ce l'abbiamo fatta Raga Poi certo Posso dargli Una spinta Sicuramente Per avere Un realismo In più Probabilmente Se faccio Se faccio come Nick Che riesco Anche A A Metterli Uno sopra L'altro A A Voglio A risparmiare Certo A livello Di Simulazione Un po' È brutto Però Insomma Ognuno Gioca come vuole Alla fine Vedete Questo è il problema Io Non riesco Ad andare Dritto Con il muletto Perché le ruote Le devo In continuazione Sterzzare Ok Questo forse L'abbiamo preso bene Ma è bellissimo Raga Con questo Rimarchio della Crohn Ciao Realismo al massimo Altro che Carrellino Ce ne stanno Due a fila Poi volendo Se uno è bravo Può anche Aspetta Poderak Tu non sei bravo Però Come le hai posizionati Tu non rientri In questa categoria Poderak Però Vedete Ok Posizionati Correttamente Le ho spinti Forse addirittura Un terzo Ma non Non rischierei Dunque avete visto Uno a fila Ce la facciamo Assolutamente Uno a fila Ce la facciamo Adesso Ci posizioniamo Correttamente Continuiamo così Con tutti gli altri pallet Devo dire Con il muletto Comunque Sembra Mi ricordo Rimaneva sempre appiccicato Ora Non vorrei Non vorrei Dire una cavolata Ma forse L'hanno migliorato Forse Forse Ah beh Poi qua Ok Luigi Ha Ha Completato Il contratto Dieci Quindi Aspetta Possiamo riscattare I soldi Vero Completata Raccogliere Teoricamente E abbiamo Ottenuto 1400 euro Grazie Luigi Salutiamo Luigi Che poverino Lavora sempre E non viene mai Gratificato Vedete Ah vedi qua È arrivato È arrivato Dito qualche motore Vedete come si prendono Cioè se Una volta che ho preso la mano Anzi Devo riprendere il joystick A volte non lo prendo Quel joystick Che non ho voglia Ma se l'attacco Forse È un grande aiuto Comunque A livello economico Non so se Adesso probabilmente Staremo perdendo Comunque un muletto E un cron E un man Me lo devo assolutamente Acquistare Me li devo acquistare Assolutamente Perché Sono Sono essenziali In una farm Soprattutto se devi Trasportare pallet In continuazione Un camioncino Piccolino Ci starebbe Ecco Ma ecco Una cosa che aggiungerei Un bel Che ne so Univico daily Con il cassone piccolo Eh Raga Chi ha voglia Di fare sta mod Ma vuoi che non ci stanno pensando Voderack Vuoi che non ci stanno pensando Ci stanno già pensato Ma ne esce sta mod Ok Luigi mi ha un po' Luigi mi ha un po' Emozionato Ma Sicuramente Ma come Come va Come va Tutto a posto Comba Eh poverino Non può parlare Non può parlare Che non ha Non ha il microfono attivo Oddio Mi sono agganciato A quello dietro Perché Io Perché sono Abbasso troppo Ma in realtà Non è Basta che Abbasso così Tac Vedi Il pallet rimane Ecco magari Lo posso anche un po' Spingere Perché non l'ho messo Benissimo Sì comunque Probabilmente Metterò l'autosterzata Raga Metterò l'autosterzata Qualcosa del genere Perché Quando è fermo È un po' Così Vediamo Vediamo Devo pensarci Devo pensare Se di mantenere Questo tipo di Meccanismo O mettere un po' L'autosterzata Perché Sono abituato Con il 19 Che avevo messo L'autosterzata È poco realistica L'autosterzata Perché Da fermo Non ti si muove Nulla Invece Sei in movimento Come in questo caso Allora sì Adesso è iniziato Puro a piovere Bellissimo Ma noi accendiamo Le luci E lavoriamo Lo stesso Vediamo anche Un po' Dall'interno Ah I terzi cristalli Tutti belli fieri Sarebbe bello Se un giorno Aggiungessero Come su Aerotrack Le gocce Dell'acqua Che ti vanno Sul vetro Oddio Non vedo niente Però così Mettiamoci Vedete Cioè comunque Alla fine è molto Non è un nolleggio Non è un nolleggio intelligente Quello che ho fatto È solo per farvi vedere un po' Le attrezzature nuove Che hanno aggiunto Insomma Spiegata Vero? Bene Adesso Che abbiamo fatto tutto Oddio Adesso che abbiamo fatto tutto Possiamo volendo andare a vendere Certo A livello di Vi ripeto Di nolleggio Non è che è convenuto molto Quello che ho fatto Però Tutto giusto Per farvi vedere Qualcosa di nuovo Guardate Ci sono anche le luci Interne Anche se però Le luci interne Io avrei preferito Piuttosto delle luci Dentro al cassone Perché se Aspetta Fammi mettere i lacci Ho messo i lacci Fammi vedere Scusami Ok Adesso le ho messi A posto Perché sennò Mi volano fuori dal cassone Allora Vediamo dove ci rivendono di più Ma penso sempre lì Lattuga Anzi Addirittura in crescita Vediamo i prezzi Ah verso gennaio Guarda quanto Ce ne chiedono Andiamo Lì E dovrebbe essere Sempre in quel punto lì In alto a sinistra Penso Guarda Mi vado a mettere Vado a mettere il contrassegno Nel dubbio Perché Non so bene dove si trova Essendo ancora nuovo Io su farming 22 Come tutti Del resto Comunque si È sempre lì Mi ricordo Guardiamo anche dall'interno Un po' Godiamoci questo interno Ah che bello Ah che bello Con la pioggia Bello l'interno Con il volante Sarebbe proprio Tutta una figata Fighissimo Con i nuovi suoni Allora i suoni Ci sta raga Ci stanno i suoni Bello lì che lampeggia Quindi Immagino E qua Ovviamente Dipende anche dal Una cosa che ho notato Tra poco siamo arrivati Comunque È che rispettano Molto anche Il Tempo Per esempio Si sa che a novembre Le giornate durano di meno E già le 5 di pomeriggio Guardate quanto è buio Piove a dirotto Insomma Molto Rispettato come clima Sarebbe fighissimo Avere il clima Tipo così Come è Anche su Eurotrack simulator 2 Comunque Buio buio Raga Io non vedo quasi niente Allora Mettiamo la freccia Andiamo per di qua Ok Le luci le avevo spente Ops Le avevo spente Io entro sempre di qua Tanto che me frega Che me importa Ci passiamo L'importante è che ci passiamo Non sono accettate qua Ma sono accettate invece Per di qua Ok Facciamo manovra Oddio Non mi vendere tutto Già Non mi fa manovra Prima Ok Adesso Così Inizio a vendere tutto Perfetto Assicuriamoci che effettivamente Stia vendendo tutto Ok Forse c'è ancora una lattuga Lì dietro Ok Raga Per quanto riguarda Il nolleggio Ovviamente Non è convenuto Però se avessimo fatto Qualche carico in più Magari Assolutamente Sì Niente Abbiamo visto oggi Il cassone Della crone Con relativo man Sicuramente Li andrò a Togliere dal nolleggio Anzi Lo faccio subito Altrimenti con il server Qua Dopo Sarà un problema Insomma Sono Delle cose Che Volevo provare Essendo che comunque Non le avevo ancora provate Sono molto belle Molto belle Sicuramente da acquistare Il prima possibile Per la nostra azienda Magari qua con il prestito Chi lo sa Perché Alla fine un camion serve sempre In termini di potenza I camion sono sempre Un'ottima soluzione Rispetto a un trattore Che magari Lo usi solamente Per il trasporto E costa 200.000 euro Spero che il video vi sia piaciuto Se è così lasciate tanti mi piace Iscrivetevi al canale Se volete altri video di Farming Simulator 22 Ringrazio Luigi comunque Che ha lavorato oggi Qui sotto in descrizione Trovate il link di Trado Così come tutti i link Del gioco scontato Su Instant Gaming Sul sito La Collector Edition Tutto E ne ci vediamo alla prossima Ciao